Musica Bambini protagonisti a Serra San Quirico dove hanno addobbato il grande albero in piazza e portato doni per i loro coetanei in ospedale. Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione regionale. Ed ora ci spostiamo a Serra San Quirico nel Lanconetano dove i bambini sono stati i protagonisti di un'importante iniziativa. Vestiti da aiutanti di Babbo Natale hanno addobbato il grande albero in piazza ma soprattutto hanno pensato ai loro coetanei ricoverati in ospedale. Per loro infatti hanno portato regali che saranno poi distribuiti nel reparto di pediatria dell'ospedale di Fabriano. Andiamo a vedere. Per un giorno sono diventati aiutanti di Babbo Natale. Hanno addobbato il grande albero in piazza e incontrato Babbo Natale in persona a cui hanno consegnato la letterina e un giocattolo da donare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Fabriano. A fare da cornice all'iniziativa Il Natale dei Piccoli la suggestiva piazza di Serra San Quirico avvolta nella più classica atmosfera natalizia. A rendere il tutto più scenografico la casetta con all'interno Babbo Natale pronto ad ascoltare i desideri dei suoi piccoli aiutanti. La festa ha visto anche spettacoli circenzi, musica, dolci e tanta solidarietà. Oltre ai doni per i piccoli malati l'iniziativa ha raccolto fondi da destinare all'acquisto di materiale per il locale Asilo Nido e la scuola dell'infanzia.